Buonasera, la Roma ha giocato in un campo molto molto difficile, sintetico e complicato. Spero che Mancini non si sia fatto nulla, spero, ma penso a me che si sia fatto veramente male. La Roma al primo tempo ha giocato benissimo, il secondo un po' meno. La partita è stata decisa dagli episodi, un po' sfortunati da parte nostra, sui errori tecnici da parte di Vigna e del portiere lui Patrizio di una divazione. Comunque c'è il ritorno, il ritorno ci comporteremo bene secondo me. Faccio mia una cosa, una cosa che ha detto Pellegrini. Questi nove genitori ti comportano abbastanza male anche fuori dal campo, all'Olimpico. La nostra vittoria sicuramente, perché secondo me la Roma passa il turno. Avranno parfipampe e focaccia, si può dire. Comunque forza Roma e daglie. Comunque forza Roma e daglie.